L'overe a tutto, il lago, una basilica del Quattrocento, Santa Maria in Valventra, un borgo antico, tra i più belli d'Italia. Affascinanti negozi, piacevolissimi bar, i capolavori custoditi in Accademia Tadini, un centro culturale d'avanguardia, un importante porto turistico. Ma allora perché Valentino Rossi non ci viene mai? Perché l'overe è mia.